Il Vittoria Peace Film Fest ha preso il via godendo della presenza di due presidenti onorario ed effettivo, rispettivamente Nello Correale e Pasquale Scimeca. Correale ha sottolineato l'ospitalità di Vittoria per il Festival di Marzamemi e della volontà di non disperdere un patrimonio di esperienza unico. Il Festival della Pace, diretto da Giuseppe e Luca Gambina, è stato caratterizzato nella prima giornata dall'avvio della sezione speciale Cine Studio, dedicata agli audiovisivi, spot, cortometraggi, animazioni, documentari, prodotti e realizzati dagli studenti delle scuole superiori della Sicilia e col chiaro obiettivo di alfabetizzare le giovani generazioni al linguaggio cinematografico. Attraverso la competenza nella scrittura di sceneggiature, la realizzazione di audiovisivi e la lettura analitica delle immagini, al via ieri anche le due sezioni autonome di rassegne dei corti firmati dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curati dal giornalista Andrea Di Falco in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Raguse e Francesco Savarino. Ospiti di eccezione ieri Nini Bruschetta e Francesco Calogero. Sono appena arrivato e sono felice che ci sia un festival in un paese come Vittoria perché intanto è un paese siciliano che è la mia terra e quindi più cultura c'è più riusciremo col tempo ad affrontare tutti i nostri problemi. La cultura è la soluzione per tutto. Il problema è che col cinema si può cambiare il mondo ma non bisogna distrarsi, nel senso che dico il cinema ma dico il teatro, l'arte e soprattutto noi siciliani, noi abbiamo la più grande concentrazione di patrimonio archeologico del mondo e l'assessorato più ambito della nostra regione è quello alle infrastrutture, non si fa un'infrastruttura in Sicilia da 50 anni, cioè dalla Messina a Palermo. Mentre invece la cultura è quella con cui si mangia, che che ne dica quel pessimo ministro che abbiamo avuto molti anni fa e che che ne dica Goering che era invece un ministro del governo di Hitler, con la cultura si mangia. I festival generalisti ce n'è fin troppo, invece un festival che si dedica su argomenti specifici, l'ambiente poi non ne parliamo, se ne è parlato in questo momento, se ne parla in questi ultimi tempi moltissimo e secondo me realizzare film che trattino questi argomenti, soprattutto quando c'è una presenza delle nuove generazioni, in questo festival è molto importante che siano molti ragazzi che seguono le proiezioni, sensibilizzare su questo argomento lo trovo fondamentale e poi trovo fondamentale il fatto di riavvicinare i ragazzi, le nuove generazioni alla sala cinematografica perché il fatto che vedano i film sui dispositivi e tra l'altro con una soglia di attenzione molto ridotta, invece vederli stare in sala un'ora e mezza magari ogni tanto si sente un po' di chiacchiericcio, qualcuno si lamenta ma il fatto che però stiano fino in fondo e magari riflettano e discutono su quel film è molto importante perché poi la sala cinematografica non può morire, è l'unico e continuare a tenere a destra la loro attenzione con eventi come il Victoria Peace Film Fest per far sì che questi si fideizzino, si affezionino alla sala cinematografica.